Ciao a tutti ragazzi, sono Samuel Trost90 ed eccomi qua ragazzi oggi con questo nuovo video Oggi sono qui con un video abbastanza importante riguardante il competitive in America Sono qui per parlarvi del perché tutte le squadre stanno cambiando roster Perché ragazzi proprio in questo periodo tutti i giocatori stanno impazzendo per trovare il team giusto Cominciamo col dire che per qualificarsi al Code Championship di Los Angeles Quest'anno le qualificazioni saranno online Ci saranno due giorni con due torni indipendenti ad eliminazione diretta Il primo febbraio, l'altro l'8 febbraio, quindi una settimana dopo A questi tornei ovviamente ragazzi si iscriveranno un sacco di team con almeno un giocatore residente negli Stati Uniti I migliori 8 team qualificati il 1 febbraio andranno direttamente al Code Championship di Los Angeles appunto E per chi non dovesse qualificarsi, appunto per i team che non dovessero qualificarsi avranno un'altra possibilità Invece è l'8 febbraio che decreterà altri 8 team che andranno appunto a Los Angeles Quindi nel complesso gli Stati Uniti potranno portare a Los Angeles quindi 16 squadre E la qualificazione online diciamo che non è stata digerita proprio da tutti i team Soprattutto perché ragazzi le qualificazioni verranno giocate al meglio dei 3 rounds Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che chi o sta la prima partita o sta anche la terza partita che in teoria deve essere quella decisiva E come sapete su Ghost o comunque ragazzi su tutti i Call of Duty Chi fa host ha un bel margine di vantaggio rispetto all'avversario Quindi questo che cosa vuol dire? Che c'è un bel casino sotto Perché tutti vogliono andare a Los Angeles Ma non basta più avere un team forte e coordinato magari in LAN Ma servono anche dei giocatori molto molto connessionati E un esempio è stato Saints che ha lasciato gli Optic dopo due giorni Dicendo che era preoccupato perché non gli sembrava un buon team online E lui voleva comunque partecipare a tutti i costi per andare appunto a Los Angeles Per lo stesso motivo ragazzi tantissimi giocatori stanno creando diciamo così un terremoto nel mondo del competitive E secondo diciamo molti questo dovrebbe terminare solamente con le qualificazioni appunto al Code Championship I migliori team diciamo in circolazione per adesso sono i Complexity Che sono il team da battere E che hanno un grandissimo teamwork secondo me i migliori attualmente al mondo Dopodichè ci sono gli Optic che sono migliorati tantissimo dopo il ritorno di scompi Poi ci sono anche i Fades che hanno acquistato diciamo così Proofy che è davvero un fenomeno Poi ci sono anche i Course con il ritorno di Parasite e Riki Ma anche ci sono i Team Caliber, gli Stricted Business, gli Envius Che comunque diciamo sarà una scommessa se riusciranno a qualificarsi perché comunque i tre quarti dei giocatori hanno mollato negli ultimi dieci giorni tra cui Scompi E poi tantissimi altri team Comunque dopo il primo febbraio vi aggiornerò con i team che si sono qualificati per il torneo mondiale E anche perché per come si stanno mettendo le cose ci saranno sicuramente delle sorprese Ditemi, fatemi sapere ragazzi nei commenti cosa ne pensate Se pensate che ci sia qualche team che possa competere con i Complexity Oppure comunque sarà un dominio ancora in contrastato di questa squadra Fatemi sapere nei commenti ragazzi Lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto E ci si becca al prossimo video Bella raga